Il parcheggio presso l'ex campo sportivo Landolfi di Agropoli ad un costo agevolato, lo ha deciso il sindaco di Agropoli Adamo Coppola in accordo con l'assessore alle politiche economiche e finanziarie Roberto Mutali Passi. Concluse le ultime operazioni per l'approvazione del bilancio, affermano entrambi, abbiamo pensato ad una soluzione che andasse incontro ai cittadini e commercianti, nel ricordare che la tariffa era comunque prevista in forma agevolata rispetto a quella previgente, ossia 50 centesimi di euro all'ora rispetto a un euro all'ora, abbiamo previsto la possibilità di pagare un prezzo simbolico per posteggiare l'auto presso il parcheggio del centro, evitando nel contempo che ci sia chi permane per mesi nello stesso punto, creandosi un garage all'aperto completamente gratuito. Abbiamo invece necessità, specie in prossimità del centro cittadino, che ci sia una rotazione al fine di poter agevolare il posteggio per tutti coloro che ne hanno necessità. Questo è il funzionamento della nuova tariffazione che prevede le due modalità. Coloro che stipuleranno un abbonamento speciale per il solo parcheggio Landolfi, valido dal mese di ottobre 2020 al mese di maggio 2021, pagheranno 25 euro, pari a poco di più di 3 euro mensili. In alternativa potrà essere stipulato un abbonamento per un solo mese a 5 euro. Per chi invece non vorrà abbonarsi, o comunque solo di passaggio, il pagamento orario per sostare sarà di 1 euro la prima ora e 50 centesimi per le ore successive. Come nel periodo estivo, evidenziano ancora il sindaco Coppola e l'assessore Mutali Passi, in cui il parcheggio era gratuito fino alle 18 per poi diventare a pagamento, per agevolare gli esercenti, la nuova tariffazione darà respiro al commercio, ma eviterà anche che il parcheggio sia solo per pochi. Si precisa che l'abbonamento potrà essere ritirato in loco in quanto sarà presente una postazione con personale dedicato.